Uno di voi si discosta minimamente dal suo carattere. Tu fai la parte di una serpetta maliziosa che non si lascia appindolare da nessuno, ed è proprio questo il tuo ritardo. Viaggio all'aria di un allocco sorpreso nel sonno, ed è proprio questa la sua parte. Una piccola civetta di paese e Nicoletta è come dire la stessa cosa.